Come cambierà il terzo settore dopo la riforma? Difficile dirlo oggi, però certamente i risultati che ci attendiamo da questo processo di riforma sono sintetizzabili in 5 punti. Prima di tutto vogliamo creare delle condizioni più favorevoli, potremmo dire un ecosistema perché ci siano più persone disponibili all'impegno volontario, disponibili all'impegno civico. Già questo censimento ci dice che c'è stata una crescita rispetto al 2011. Il secondo punto è che crescano anche, nel secondo obiettivo, le imprese, le imprese sociali che sono collegate ai servizi e alle attività di questo mondo del terzo settore. E anche qui abbiamo visto che il rapporto dell'Ista ci dice che c'è stato un incremento. Terzo aspetto, nella riforma ci sono degli incentivi forti di carattere fiscale per chi vuole sostenere le opere, i progetti degli enti di terzo settore attraverso donazioni, erogazioni liberali. Quarto elemento, ci aspettiamo un maggiore trasparenza. Avremo il registro unico degli enti di terzo settore e credo che questo aiuterà molto sia l'azione amministrativa, sia la conoscenza, che già l'Istat aiuta bene a fare attraverso il censimento, sia la conoscenza puntuale di questi enti, in modo che le istituzioni vadano a favorire effettivamente coloro che corrispondono al dettato della legge. E infine, ultimo punto, ci attendiamo anche una crescita delle opportunità di servizio civile per i ragazzi. È un'esperienza di servizio civile volontario, è un investimento sulle generazioni più giovani perché sentano l'impegno civico, l'impegno volontario come qualcosa di rilevante del loro essere cittadini di questo Paese.